mi lascio una al centro la faccio così me lo dicevi che ti piacerebbe 2 guarda 3 e 4 ce ne erano 15 va bene tu le hai messi nel sugo cretino gli mettiamo le denticchie dove? dove l'hai sprecata? se no si era fantastico 15 dentici oppure 3-4 cozze 3-4 cozze bello di mamma, ma sai come si racconta? inizia a fargli trovare la crostatina al posto di quella inizia a fargli trovare la crostatina al posto di quella prendila un po' prendila un po' una cozza al centro ci sta bene però me la metto? insomma è diventata di gomma sta crostatina aia dammela dammela mamma che la muffa salina quella muffa io ci metto una cozza si prendi qualche lenticchia che cosa? no pure qualche altra cozza non ci sta prendi 3 cozze aspetta vengo io là allora vieni qua bella cozze 3 e poi le lenticchie al centro ehm ehm e si qui bello del mamma a lui piace molto le lenticchie poi si mette pure un po' di spinaccio no beh che fa qui eh eh una contorna e uno io sembra c'è un sacco di composizioni col cibo metti pure un'aspirina sopra guarda che carino 4 basta? padriano 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 lo scampo io metto lo scampo ahahah 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 bella questa crostata di mare ahahah 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 però sparichiamo tutto e lasciamo solo questo si fa ancora più effetto no questa che lascio vuota ahahah ahahah ma dove l'hai messa poi? mentre al frigo corri 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 no no banana no banana non c'entra niente tutto mare e verdure e e e e che fai che 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 Grazie.